Un importante passo avanti verso i play-off per la squadra di basket della Polisportiva Europa di Montelepre. Il team locale, guidato dal coach Nino Giuliano, ha sconfitto la palermitana polisportiva Donorione 76-73. La squadra locale si posiziona così in vetta alla classifica di promozione. Una sfida sofferta per entrambe le formazioni che fin dai primi minuti si sono distanziate di pochissimi punti, lasciando il pubblico con il siato sospeso. La vittoria per la squadra monteleprina si è contabilizzata negli ultimi secondi della partita. È l'ennesima sfida vinta per il team locale che colleziona così sette vittorie su otto nel girone di promozione. Il prossimo obiettivo per i monteleprini ora è quello di raggiungere i play-off. È una partita soffertissima, giocavamo con la prima della classe, i ragazzi ce l'hanno messa tutta. Determinazione, voglia di vincere e poi questo è un gruppo che non ci sta a perdere. Ha lottato dal primo minuto fino alla fine. È stata una bellissima partita, il risultato ci è stato favorevole, quindi siamo soddisfatti. Un passo avanti verso quelli che sono i play-off? Sicuramente, questa vittoria vale tantissimo. L'obiettivo minimo era proprio questo, arrivare tra i primi quattro. Penso che dopo questa partita ci dobbiamo credere, dobbiamo fare di tutto per arrivarci. Dobbiamo continuare comunque ad allenarci con continuità fino alla fine. Sinceramente noi ci credevamo sin dall'inizio. Ovviamente ognuno quando scende in campo ha sempre la voglia di vincere. E poi con questo pubblico così fantastico non potevamo chi è non vincere. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto la vetta, adesso si può continuare a sognare. Dall'inizio non ci credeva nessuno, ci credevamo solo in pochi, ma il pubblico di Montepre ci segue. Noi non possiamo chiassacondarlo nelle sue richieste e speriamo di raggiungere i play-off. E poi saremo tutti qui con una palestra così piena come oggi. Volevo ringraziare tutti, tutto il pubblico che c'era qua, tutta Montepre e tutti quelli che non ci hanno potuto seguire. Ma gli diamo l'appuntamento. Speriamo davvero di incontrarci nei play-off. Volevo ringraziare tutti, tutto il pubblico che non ci hanno potuto seguire.